Ciao mamme, sono Elena di Bebizu e oggi parliamo di una persona molto importante che voi conoscete ed è la nostra cara mamma Zulega Buongiorno a tutti, ciao mamme Non so se lo sapevate ma qui aspettiamo una bebé e oggi vi spiegheremo come fare la borsa per l'ospedale quindi mamme partiamo dalla telegenza, adesso facciamo il riassuntito e poi vi spieghiamo questo andiamo al nostro carrellino è pronta mamma, sono pronta, sono emozionata, devo scegliere non è facile perché io giudo sempre le mamme e poi vi spiegheremo come fare la borsa per l'ospedale e poi vi spiegheremo quello che abbiamo scelto, andiamo! eccoci qui mamme, abbiamo sistemato tutto sul tavolo tutto quello che abbiamo scelto adesso la mamma Zulega ci spiegherà tutto quello che abbiamo scelto abbiamo aggiunto anche la nostra borsa chicco con tutti i confetini che deve mettere in questa borsa iniziamo Zulega iniziamo, allora ragazze cosa mettiamo in questa borsa? ora ne parleremo una borsa un sacco da dare per la prima nascita ai medici e poi insomma una borsa che serve per l'adegenza ospedaliera e un trolley per voi quindi io partirei da quello che serve magari a me quindi lasciando perdere da quello che serve ai medici subito io vi dico lei, già ne parlavo anche nell'altro video è un'acqua micellare e io infatti come vedete non sto portando saponi saponi che fanno shampoo, doccia, bagno o no troppo saponosi, scomodissimi in ospedale portiamo lei mettiamo, ah volevamo dire che anche in questa borsa chicco c'è il passetoio portatile eccolo qua e anche dove mettere il biberon è termico è termico, in futuro la potete tranquillamente utilizzare per mettere il biberon togliamo un attimo questo per essere più comode quindi a questo punto dopo aver lavato la bambina io direi di andare a mettere la crema cambio io ho scelto questa qua della hip perchè è molto comoda, molto semplice non ha tantissimo zinco quindi va bene per l'inizio secondo me poi allora per quanto riguarda le spugne ne abbiamo di diversi tipi io sinceramente credo di prendere lei che mi è stata più comoda per quanto riguarda la prima bambina e utilizzerò i quadrotti quindi sono loro Elena mi aiuta a sistemare poi ragazzi dobbiamo far rendere tutto sì, ce lo dobbiamo fare allora ovviamente loro i kit io so che all'inizio la prima fase insomma ci pensavano i medici ma ovviamente poi dovrò prenderli certo li apriamo questo è il kit da tre pezzi quindi questo è quello che si mette attorno al pancino allora qui c'è la fascia la fascia, sì la garza la garza e la fascetta sono già pretagliate quindi viene molto semplice quindi potete dare tranquillamente questo sì, possiamo metterli anche tutti quanti insieme poi, poi cosa metto? allora questo comunque io so che mi serviranno le garze le chiedono comunque all'ospedale io consiglio sempre di prenderle ovviamente sono sterili anche queste chiuse in compiezzo di singole quindi potete magari metterne alcune nella borsa perché vorremmo anche dirvi che in ospedale ecco, questo è importante così se non volete portare tutto il pacchetto se riesco ad aprire ecco qua io ve li consegui questi sicuramente le buste quindi se non volete mettere tutte le gaze basta infilarle qui dentro magari ecco in ogni busta in ogni caso sistemiamole direttamente così non so un po' capire sì, sì, sì andiamo a dividere un'altra cosa che utilizzerò sicuramente è questa qua e sono delle salviettine dell'aticco per quanto riguarda il seno cioè nel senso ovviamente arriverà il colosso arriverà tutto magari per una pulizia del seno affinché per la bimba si attacchi bene questo io lo trovo utile carino ho intenzione di allattare quindi lo userò lo prenderò ovviamente non posso staccarli non posso prendere una metà perché sennò si sciurerebbero perché queste qua finiranno grossissime esatto un'altra cosa di salviettine io vi consiglio queste queste sono salviettine intime ovviamente non sappiamo quanto sarà del genzo se saremo ricoverati prima o dopo e quindi queste qua sono delle salviettine che comunque consiglio alle donne in generale di avere in borsa intime per i momenti ovviamente magari dove una si trova in difficoltà come ad esempio una leggenza ospedaliera la posiamo subito per quanto riguarda la pelle del bambino come vedete è usato soltanto c'è un stela come sapone e come crema essendo che partorisco l'estate io sconsiglio le creme vi consiglio piuttosto il talco non talco un'emulsione bellissima che serve anche contro le zanzare ma quanto ne vendiamo e quanto ci piace talco non talco tantissimo ultimo non ultimo ma ragazzi ne parleremo vi farò un video su bevilino che a testo ha vinto una premia importante ma ne parleremo io userò ovviamente la taglia 1 che appunto è dai 2-5 kg va benissimo come taglia noi amiamo bevilino davvero io mi trovo benissimo con la mia prima figlia che ha ancora il pandolino e davvero ci dobbiamo allagando ovviamente in questo caso lo mettiamo non c'entra me ne bisognerò alcuni metterli qui dentro esatto e alcuni sicuramente almeno 2 darli alle ostetiche perché ovviamente a loro servono quindi dovremmo usufruire tanto di questi ovviamente li trovate sempre da baby zoo o sempre baby lip per quanto riguarda ok vabbè ci sta se nasce con i capelli comunque ragazzi compratevela io ve la consiglio servire alla spazzola necessariamente acqua ossigenata si volendo potremmo metterla nel fascetto oppure portarvela non caricarlevi troppo al massimo vi aiutano voi vi aiutano i dottori quindi non lo so l'acqua di colonia io sto scegliendo questa della chio kid come sempre un'esclusiva qui a bronte ma come sempre ragazzi vi invito insomma a vedere sui nostri link sotto l'infobox noi appunto spediamo in tutta Italia loro due ad esempio io non so fino a che punto li porterò all'ospedale perché potrebbero volendo servirmi successivamente quindi adesso spacchettiamo questo e poi i cotonfioc mi serviranno non subitissimo questo invece me lo volevo portare ve ne avevo forse parlato in qualche storia su Instagram penso che farò un video questo è un appunto un detergente che serve per per le superfici quindi in ospedale credo che sia molto utile successivamente per quanto riguarda l'intimo della bambina spero che riusciate a vedere passiamo alla video esatto così me ne mettiamo anche già nelle bustine esatto questo qua è un body perché ci piace Elena questo body? perché l'incrozo è molto comodo tra tutte queste le neomamme vi assicuro si chiede dalla testolina ma non si sa solo soltanto esatto andiamo a imbustare ovviamente queste cose le laveremo prima ovviamente lascio qua da ragazzi datela senza con poco ammorbidente o comunque quella ammorbidente tipica dei bambini ok io ho scelto sempre la nostra azienda era pif in esclusiva sempre qui ho scelto di prendere questa sacca a parte che è utile la sacca quindi comunque vi servirà un primo cappellino perché no le manivoline allora le manivoline non mi credete mai nessuna mamma perché non mi credete mamma prendete perché poi nascono con le u nascono con le u delle unghie incredibili si amore mio nascono con delle unghie incredibili e prendete mi venite per le mamme le papà e i papà e le nonne a cercare le musso quindi mettiamole dentro disponibili anche col bianco e con la giurla facciamo tutto rosa perché aspettiamo una femminuccia e anche questa dentro con la giurla perfetto e la prima è fatta poi cosa abbiamo scelto poi abbiamo scelto come corretina ragazzi non poteva non essere non può non essere Ninna O questa è una partita dalla spugna ecco dovete mettere la spugna da dare alle ostetiche che laveranno il vostro bimbo la vostra bimbo in questo caso guardi guardi guarda che fantastico insomma che dettagli ovviamente abbiamo scelto tutto Ninna O ma è meraviglioso io non so se riuscite a vedere la bellezza parliamo tutto abbinato e per questo abbiamo scelto la busta Ninna O per contenere vanno bene anche le buste in plastica che vi avevo mostrato ma se volete continuare con il corretino potete inserire tutto qui dentro esattamente come primo corretino io ho scelto lui come diciamo come tutina ma tante mamme mi scegliete a volte l'ho spezzato a volte come secondo giorno qua il secondo vestito che si mette metteremo probabilmente all'uscita vedremo non lo so ma mi piace tantissimo con la colottina bene della sorellina la sorellina che è impaziente sei contenta di tutte queste cose? certo anche te le dobbiamo contare allora bene penso che siamo state molto sintetiche abbiamo detto un po' tutto ma al prossimo appuntamento spiegheremo cosa tu dovrai portare esatto qui c'è anche la boss e la mamma perché qui già non c'entra niente ancora deve nascere esatto è già la borsa è piena quindi senza trolley vi faremo però vedere cosa portare quindi cara mamma ci vediamo al prossimo video ciao da Elena e da Zulega e mettete mi piace alla pagina facebook iscrivetevi così ricevete tutti i nostri video ciao 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 Grazie a tutti